La dottoressa McWheely Guarda! Una macchina bianca corre per strada. Si chiama una vettura fuoristrada. La macchina va di fretta perché sta diventando tardi. È buio! La vettura ha acceso le luci. Sì, così è molto meglio. Oh, cara auto! Gli anabbaglianti non funzionano. Non va bene guidare senza gli anabbaglianti durante la notte. Non è sicuro. Aspettiamo il giorno. Bellissimo! È mattina! Come possiamo iniziare il nuovo giorno? Certo! Andiamo nell'autofficina della dottoressa McWheely per sistemare i fari rotti. Ma dov'è la dottoressa McWheely? Wow! Lei è lì! Dottoressa McWheely, vieni qua a vedere gli ospiti. Scendi! Abbiamo bisogno del tuo aiuto con le luci rotte. La dottoressa McWheely ha deciso di controllare attentamente la macchina. Cara auto, accendi le tue luci di freccia, per favore. Bene, funzionano. Ora le luci stop. Anche quelle funzionano. Ora accendi i fari. Non funzionano. Questo è un faro della vettura. Smontiamolo e vediamo cosa non funziona. Ecco due piccole valvole. Sono fulminate. Dobbiamo installare quelle nuove. La dottoressa McWheely ce le ha. Una e l'altra. Fatto! Cara auto, accendi gli anabbaglianti. Evviva! Funzionano! Grazie, dottoressa. Arrivederci! Vuoi sapere come la dottoressa McWheely ha aiutato le altre vetture? Accedi al nostro canale e scegli il cartone animato La dottoressa McWheely. Ciao! Grazie! Grazie!